Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Siamo abituati a vederli sorridenti e allegri, ma anche gli artisti del volo attraversano momenti difficili nella loro vita. Ignazio Boschetto, in particolare, ha vissuto un vero e proprio dramma. Nato nel 1994, Ignazio è diventato celebre grazie al programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, che gli ha permesso di conoscere gli altri due membri del trio che è poi diventato famoso in tutto il mondo. La sua voce lirica, capace di toccare profondamente l'anima, si sposa perfettamente con i timbri degli altri due componenti del trio. Oggi, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Piero Barone sono inseparabili. Ignazio, però, ha dovuto affrontare molti momenti bui nella sua vita privata, che lo hanno reso un ragazzo più temperato e consapevole. In primo luogo, ha visto la grande sofferenza della madre nella sua lotta contro una malattia, che fortunatamente è riuscita a sconfiggere. Poi, è arrivata un'altra batosta, la perdita improvvisa del padre nel 2021, a causa di un malore che ha colpito l'uomo improvvisamente, lasciando sconvolta tutta la famiglia del cantante. Questo evento tragico è avvenuto poche ore prima di un'esibizione di Ignazio al Festival di Sanremo, provocandogli un forte shock. Ogni anno, Ignazio ricorda il padre e il bellissimo rapporto che li legava con un post sui social. Il tenore del volo ha dovuto affrontare anche un altro problema, una condizione chiamata agenesia, ovvero la mancanza di un organo che non si è formato durante i nove mesi di gestazione. In sostanza, a Ignazio manca un rene, una condizione congenita che, per fortuna, almeno per ora non gli provoca problemi nella vita quotidiana e nella sua carriera, che continua a prosperare grazie al suo talento. La musica è la sua vera cura dell'anima. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.